Non ce l'ha fatta Nunzi Arena, 86 anni, investita ieri dall'auto di Salvatore Scammacca, il 47enne ucciso a colpi di pistola mentre guidava a Valguarnera Caropepe nell'Ennese. La donna è deceduta all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove era stata ricoverata. L'86enne era stata travolta dall'auto di Scammacca che subito dopo lo sparo ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto finendo contro il mezzo di un venditore ambulante che vendeva frutta e verdura. Anche lui rimasto ferito, ma non in maniera grave. La signora Nunzi, dice l'avvocato della famiglia della donna, è stata interrogata dagli inquirenti prima di ispirare, raccontando l'accaduto. Intanto prosegue la caccia al killer, la città è presidiata dalle forze di polizia che ieri pomeriggio hanno diffuso la foto segnaletica del sospettato che sarebbe ancora armato. Si tratta di Guglielmo Ruisi, 51 anni. L'uomo viaggia a bordo di una Mercedes CLK di color blu, targata CY793AW. Pare che tra la vittima e il suo aggressore ci fossero antichi livori e i due avevano avuto un'accesa discussione poco prima in un bar.